o sarà ragazzi eccoci situazione c'è uno scontro lì esplosioni spari proiettili e cose varie vogliono far crollare tutto sta cosa è in un macella e vabbè che dire andiamo andiamo ma già tutti scappando corriamo direttamente grazie a tutti Ok, no Taglie Proprio Scusatemi Che stavo a dica Ecco, scusate Stavo andato regolando un po' il volume Ok, stavo riregolando un po' il volume Fa ridere che devo tenere un po' abbassato Per questo gioco, comunque stavamo dicendo Ah si, continuiamo Ma no Tecnicali dobbiamo venire anche Gli altri però Infatti Tecnicali dobbiamo venire Ahia, attraverà Oh, c'è io di mezzo a uno? Ehi, so per togliere uno di mezzo Oh Oh, che bello Attenzione Ok 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 Ah, ecco come funziona Che figata Stavo guardando come funzionava Ahia, ecco come funziona Ahia, ecco come funziona Ah, ecco come funziona Già, ecco come funziona Ok 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 stanno atto vedendo che cosa mi conviene a fare però cavolo faccia barri e ecco ah è rimasta l'unico ok 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 vai tifa che puro ah che succede ok andata oh se lo eliminiamo ovviamente potenziamo anche quello oh se lo eliminiamo è vero è vero vieni 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 ok vieni tu non ve vieni 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 grande ora si che va bene vedi quando faccio la tensione a questo funziona è andata grande chi li ha neri e oris ecco si però lei non parla il fastidio di sto personaggio qui di lei è che non parla lei sa le cose ma non lo dice ed ha un fastidio sta cosa ma non lo vuole spiegare per problemi suoi per carità lo capisco però è il comune una faccia Vimitti Ero Cosa 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 Sì, è difficile. La città che la città di questa città... C'è vero. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Wettighe, io andiamo. Io andiamo. Io andiamo. Io andiamo. Io andiamo. Vicks, io andiamo. Wettighe! Io andiamo alla Cloud. Io andiamo! Ah... Vicks! Jesse! Valetta! Wettighe, io andiamo. Diffa! Ah... Ma... Cacchio, che casino ragazzi. Allora, lì è scassato e non c'è niente... Non c'è bisogno. E non c'è bisogno. Ma... ... ... Oh, aspetta un momento! Nooo, cavolo, troppi! Eh, sì, aspetta! Oh, e mori! L'unica cosa che potevo fare è mega pozione, sì, curati! Ah, c'è anche qua una mega pozione, mi sono curato tantissimo, non è rassicurante come cosa! Ah, c'è anche qua! Dove avere una granata, oh, cari! No! Ok! 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 Andata! Ole! Bella! Torniamo di mezzo, ecco qua! Poi! Torniamo di mezzo, ecco qua! Torniamo di mezzo, ecco qua! Torniamo di mezzo! Torniamo di mezzo, ecco qua! Torniamo di mezzo, ecco qua! Torniamo di mezzo, ecco qua! E riprendo di mezzo, e augura che sedia! Torniamo di mezzo, ecco qua! Chi sono le ore, piccolo countries Ah Non ho parlato ragazze Perché è bella come scena Ovviamente Non vi faccio spoiler ma Tranquilli Si riprenderà Non dico altro Il come non vi dico Maron Un inferno Soldati tutti Oddio Non ricordo quello Grazie mille Scusate Inseminare I'era Non riusciamo I'era I'era Grazie a tutti. 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 Dove proseguire tutto il percorso. Ok, quindi vuol dire che l'altro si trova in zona. Ah, ecco. Ah, ecco. Qua dovrebbe starci la scena nel... Ah, ecco. Ah, ecco. Ah, ecco. Ah, ecco. Ah, ecco. Ah, ecco. Ecco, ecco. Ecco, ecco. Ah, ecco. Ah, ecco. Ah, ecco. Ah, ecco. 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 la progrado. ospiti bene quando si riverà andare. non mi andiamo a unок, non mi dispiace! ehm? Il suo soldato, il famoso ragazzo, Pivello. Non c'è un po' di scopo! Volevo, qui! Sì, aspettate! Richie, la 7th Heaven è a questo punto, non è? Poi andiamo a lì e andiamo a dire a lì! Marino, ti dimentichi! Allora è stupendo Eppure a me mi fa piacere il veterano Cioè che è stronzo Mentre il soldato dice no io non voglio E abbia fatto bene a far vedere spesso il personaggio Come quella Il record Oh Sì, sì. Sì, è un amico. Sono un amico. Sì, guarda a te. Ti spieghi a Tifa. E poi non ci vuoi. Per ora, non lo so. Qui è危ane. Tu e te anche se si è riuscita! Ah, sono qui! Ehi, questo! Poi! Oh, è un pochino! ovviamente mamma mia si c'è un'altra pared corso eh la bambina è molto bella tutte queste scene signori cavolo però devo salvare la bambina ci sono tutti i bambini sono tutti i bambini ci sono tutti i bambini non sono tutti i bambini si sono tutti i bambini ci sono i bambini si sono i bambini è così sei scappato senza per una bambina padre del merda vabbè più o meno è già dove andare è ovvio però posso sì però caramia ti puoi ripigliare per favore ma ron io non la sopporto sto personaggio non mi interessa se oh muovete oh ogni esplosione oh oh mio dio sto morendo esagerata dai su forza ecco sentite oh la la ecco ti è 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 Grazie a tutti la mia casa è morta la mia casa è morta è triste ma la mia famiglia è lì la mia casa Ehi ragazzi è pesante, è pesante ragazzi lasciate stare, è molto pesante Ehi ragazzi ma in Final Fantasy cosa vi aspettate? Tramme semplici, sono tosta Ehi ragazzi non c'è niente da dire, è molto bello Ehi ragazzi non c'è niente Ehi ragazzi non c'è nessuno Ehi ragazzi non c'è nessuno Per salvare la bambina ovviamente ragazzi per salvare la bambina Deve venire con lei perché se no la bambina abbandonano ed è un casino Ehi ragazzi Final Fantasy ha una storia molto avvincente Ma tutti è il 7, il 6, l'8, il 9 Ehi ragazzi è sottosti, sottosti Ehi ragazzi non c'è qualcosa Vabbè in generale Ehi ragazzi C'è il giusto? Ittè! Glado! Diffa! O matassi! Mazzata! O tagai sa ma... ... 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 C'est qui estas... ... ... ... Ok 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 Oh Non A prestigio Ok 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 Sì, scusate che sto a giocare Ma dice ora 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 Non dice Vabbè, niente Prendi, 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 prendi Infatti ora 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 E prendi, prendi, prendi Non era Corri, corri, corri E vabbè, allora, allora Siete stronti Scusate, non mi spuntare Ma qui si dice no che non si può salire Forse era quella più fericosa Il percorso che ho scelto, sapete Però va bene, dai, andate Ok Ok Oh, basta Ah, l'hai bloccato? No, non è stronti No, non è stronti Si può andare, ok Ve l'ho fatto vedere Sì, perché è stata una via più difficile Ok, andata Ok, andata Dovevo salire continuamente Eh, vieni distrutto Eh, vieni distrutto Per favore Eccoci Vedete Allora, finché non cambia nulla Però livellare, ragazzi È una cosa che mi piace Da fare Aiuto Ok 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 Sì, non è vero! Grande Keo! no dopo verso la vetta cavo abbiamo perso due droidi ho perso la trama importante mi spiace non 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 ... Sì, andiamo. Quanto ci manca? Eh coglione, ancora 42 minuti. Vediamo di arrivarci a un buon punto, dai. Sì, mi sono spaventato. Ok, granata. Oh, basta, maronna. Sì, mi sono spaventato. Oh, via, corri. Non so, non so, non so. Andiamo a andare. Entendete. Comunque pure io sono scemo Oh grazie Finalmente si è messo in una posizione dove possiamo colpirti Ah beh ho capito Oh grande Deve va a tirar Oh almeno arriviamo fino a un determinato punto Si si quelli lasciate il combatto intanto Oh No, prima togliamo di questo di mezzo, sennò c'è l'accelerazione. Ok. 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 Eanko. E non ci voleva. Non lo so, non lo so, non lo so. grande oh le andata quindi sei rimasto solo tu i biota wow cavolo bello scontro andiamo mamma mia bello scontro però aspetta prima di andare voglio vedere se c'è qualcosa di là eh no perché voglio essere sicuro che non mi dimentico nulla prima lo so uno dei prima scusa non dovresti andare a salvare la tizia ti ha ragione però però non si sa mai se c'era qualcosa qui no o invece si mi era suggerito una di sera vabbè però sempre sempre c'è roba signore ok andiamo la stoppiamo quando arriviamo dalla tizia vediamo che succede mamma mia è bello questa parte a me da vedere sotto che quella è tutta la città creata veramente dove poi avendo i muoviti è bellissimo e siamo molto nell'intermezzo andiamo dove cacchio sei ah eccolo oddio ma il rendering dei materiali è bello no eh Oh no, Diva è stato un piccolo, mi sembrava di fare un piccolo. Il mio cuore di ultimo parlamento è un cloud. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.